Una brutta notizia, una buona notizia secondo il consigliere comunale di opposizione Paolo Polini. Cominciamo dalla brutta, cioè la chiusura del plesso scolastico di Zampitto. Sì, ho appreso proprio da brevissimo tempo che il prossimo anno scolastico il plesso di Zampitto non riceverà più i bambini, sarà chiuso. Nel tempo sono state fatte tantissime battaglie per il mantenimento di questo plesso, perché standoci due plessi si riusciva a dare una doppia offerta formativa, il tempo normale e il tempo prolungato. A Zampitto abbiamo già perso il punto di soccorso avanzato, adesso perdiamo la scuola, quindi povero Zampitto. La buona notizia? La buona notizia invece è che da pochi giorni è stata pubblicata l'avviso di retrocessione dei terreni edificabili. Tutto è partito ad agosto con una mozione della minoranza che impegnava la Giunta a farlo. A Natale ci fu presentata una bozza, l'abbiamo osservata in molti punti, e adesso a maggio è stata pubblicata, dando la possibilità a coloro che hanno terreni edificabili di retrocederlo, quindi non farli più edificabili, ovviamente non pagando l'Imu. Ognuno poi vede i propri interessi, anche se ce n'è uno solo, è sempre una legge che è vigente, è una legge regionale, quindi era giusto farla. Quindi a Basciano le buone notizie arrivano solo se di mezzo c'è l'opposizione, può essere? Io dico di sì, sono stato accusato dal sindaco una volta che ridevo mentre male battute dell'intervistatore sono sempre... sì, quindi la minoranza cerca sempre di dare il contributo in particolare, la mia voce sarà sempre presente, fin quando rappresenterò anche uno solo dei miei concittadini, sarò presente e parlerò.